Non è soltanto la sinistra, è tutta la politica che assente, che crede di poter vivere sui social network, postando foto in cui spalma la Nutella, si sdraia con la fidanzata e con questo togliendo senso alla politica, togliendo senso agli ideali, alla cornice culturale della politica. I fascisti spuntano nelle periferie perché puntano sull'emarginazione sociale, la trasformano in antagonismo e gli danno la cornice mitologica del fascismo, che è una cornice di cartapesta, una crosta, ma nel vuoto può funzionare anche quella.